Musica Nome Marta Ponti Anita Età Quasi 24 Perché te lo devo dire? Compleanno Primo giugno 1989 13 febbraio Segno zodiacale Gemelli E... Serpente Acquario Sei innamorata? Sì Sì Ti piaci interiormente? Ho i miei alti e bassi In genere non mi dispiaccio Hai mai fatto un incidente con la macchina? No per fortuna Ti fidi dei tuoi amici? Abbastanza Sì Colore preferito? Turchese Lilla Colore preferito dell'intimo? Tutti i colori e tutte le forme A me piace il nero, sì Numero preferito? Uno e sei Uno Tipo di musica preferita? Rock melodico Però in genere ascolto di tutto Mi piacciono i callplay Però ascolto di tutto, dai Cosa odi? La mia insicurezza Gli sfigati Come ti vedi nel futuro? Con i miei obiettivi realizzati Speriamo Sposata Con figli E con una buona carriera Cosa cambieresti nella tua vita? Il fatto che mi faccio tante pippe mentale Il fatto che a Luca piacciono i fumetti Quando sei felice? Quando raggiungo i miei obiettivi Quando Luca mi porta fuori a cena Proverbio preferito? Non ne ho uno in particolare La felicità si ottiene tramite il controllo e la calma Libro preferito? La saga di Harry Potter sicuramente E il Signore degli Anelli Anche quelli di Eragon Ma di tutti un po' Leggo tanto Mi piacciono molto i libri di Sophie Kinsella Mi piace molto anche il diario di Bridget Jones Di cosa hai paura? Un po' dei serpenti Non ho una paura in particolare Vabbè, forse che mi scippino La prima cosa cui pensi quando ti svegli? È già ora di alzarsi Ma penso a tutte le cose che devo fare durante la giornata Film preferito? Ce ne sono tanti Uno dei miei preferiti è Don Juan de Marco Con Johnny Depp e Marlon Brando Il diario di Bridget Jones Se potessi essere qualcun altro, chi saresti? In parte mi piacerebbe Meryl Streep Dei personaggi dei fumetti invece Mi piacerebbe molto essere Aspen Matthews di Fatom O Fatom Come caspita si dice? Vabbè Ann Hathaway nel Il diavolo veste Prada Cosa c'è appeso al muro della tua camera? Foto Disegni Il poster di One Piece con Ace e Rufy E la bandiera dell'Irlanda Beh, c'è una foto mia e di Luca Un calendario di un cartone Dove c'è uno che tiene una mela È una specie di mostro Ah, e poi un poster di Guerre Stellari Ma li farò togliere prima o poi Cosa c'è sotto il tuo letto? Il mio armadio No, perché io dormo in un letto come a Castello E sotto c'è l'armadio Adesso ci sono delle mie scatole da scarpe Ci ho trovato un poster probabilmente di Luca Con una donna mezza nuda Il posto dove ti piacerebbe vivere? Sott'acqua No, scherzo Mi piacerebbe vivere a Londra New York Profumo preferito? Coco Mademoiselle di Chanel Chanel numero 5 Sport preferito? Atletica Equitazione Timida o estroversa? Inizialmente sono timida Poi se mi trovo bene in un gruppo divento estroversa Penso di essere una persona abbastanza decisa Quindi diciamo estroversa Soprannomi? Non ne ho in particolare Ah, forse Charky Solo Luca che mi chiama amore Niente di che Cibo preferito? Pizza Mi piace abbastanza il sushi Sogno erotico? Johnny Depp Matt Damon A che ora vai a letto di solito? Ma verso le undici Undici e mezza Ma tra le undici e mezzanotte Hai paura della morte? E prima o poi arriva Speriamo poi Per ora non ci penso Fai un saluto a tutti i fan di Strips Seguiteci eh Perché c'è qualcuno che segue questa schifezza? Che sfigati